Ho ho ho, ciao a tutti voi bonsaisti, il Natale arriva in fretta e c'è un gruppo di amici che vuole farvi gli auguri. E Natale amici miei, quante cose comprerei? Bonsai come alberello, con sottidoni del bambinello. La passione del bonsai è l'amor per la natura. Fa sognare una kinsai con dei fiori e matura. Vieni a secca, uno sciari, una foglia oppure un ago. Sono cose che magari fan sognare d'essere mago. Del bonsai stiamo parlando, si intende. Se un percorso stanno cercando, l'IBS ha lo spessore. Slitte campanelle, rumor di fresa e salamelle. Nella gioia di quest'arte, noi avremo le giuste carte. Qui c'è Branch, la nostra rivista, che sollazza il bonsaiista. I nostri soci, i nostri amici, sono dei nostri e sono felici. Va bene, dai. Ora chiudiamo e buone feste vi auguriamo. Un buon anno, come Carmelo, a tutti voi al mondo intero. Da parte d'IBS, i nostri più sinceri e cari auguri per voi e le vostre famiglie. Cari auguri a tutti. Allora quindi fate i bravi e dai, forza, scegliete anche voi un bel percorso didattico da un IBS. Vi ricordiamo bonsai e sui secchi, in mani sicure di un esperto. Forza, cosa aspetti. Buone feste, buon Natale.